musica eeeh cos'è sta cosa che ridono ueeh non mi piace e là salvo a tutti sono per ed eccoci qui in questo nuovo episodio di Inverbis Virtus dove girando per quel labirinto ho trovato questa scalinata che ci porta giù che poi tipo la maggior parte dei punti segnati sulla mappa è caduta roba e quindi probabilmente dovremmo servirci di una magia per spostarla non lo so comunque sono arrivato qua e c'è sto posto iper figo ma ci sono tipo ste fiammelle che potrebbero essere degli spiriti ectolume eh no lumetial no lumetial no com'era lumetroba ok perfetto funziona lo stesso e oh aspetta ectolume crepate crepate aspettate ok oh ecco qua crepate 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 dai crepate un po' di più ste crepando poco ok lumetial era lumetial già io non me le ricordo le cose poi mi fate venire i dubbi eh comunque wow ok che roba figa oh quella è una stata di veritas oh è veritas sì sì c'è la vera veritas no non è la verità veritas oh ma c'è il comando ti ha l'lumet l'oggetto è troppo lontano per sentirmi pure là ti ha l'lumet ok ok l'oggetto è troppo lontano per sentirmi ti ha l'lumet mannaggia come faccio se gli oggetti ti ha l'lumet ti ha l'luda no l'lumet l'uda ok gli oggetti sono troppo lontani per sentire ah ok potevo girare qua ti ha l'luda ti ha l'luda come l'oggetto ti ha l'luda nudge ci dovevo azzeccare ok qui si cade il tipo mi sa che questa è un'altra delle tre divinità quella c'è la veritas e gli altri due ok andiamo perfetto cioè quindi ci si deve proprio azzeccare wow oh oh che cristo uè ti ha l'lumet eh oh è il pe ti ha l'lucosa ti ha l'lumet no l'umet qualcosa l'umet qualcosa l'umet ti ha l'lumet what aaa mi sta antipatica l'umet delle mie brame chi è la luce più carina del reame io che tu sei brutta e cattiva eh non è che sta sparando di nuovo nudge io sono la lucetta più carina del reame no aspetta andiamo più di qua devo fare attenzione non mi ci devo avvicinare perchè sta roba mi fa volare via ok ti ha l'luda perfetto mi ha sentito ok sta roba non si ha non si abbassa ti ha l'luda perfetto si sta abbassando la cosa ok grande scorciatoia perfetto amo le scorciatoie eee oh mio dio queste sono le le porte dell'inferno uh punto delle rimembranze amo i punti delle rimembranze allora che si deve fare qua uh ah no aspetta ah il il cerchio delle rimembranze che mi stava teletrasportando eee ok mi sa eee lume etial no eh vabbè ok era ectolume però funzionato lo stesso ah ok mi sa che non funziona perchè ci serve un qualcosa tipo di verde per colorare il nostro raggio di luce ah eccolo ectolume oh ectolume ah e come faccio qua ok facciamo una cosa proviamo ad andare da un'altra parte tu non mi piace proprio lucetta perchè forse di la ecco vedo un qualcosa di verde magari dobbiamo prenderlo con lobby kenu e poi portarlo lo metti al ok bug del giorno bug del giorno posso accedere a questa stanza anche senza aver completato le cose che bello ma qua c'era il simbolo del comando ti allaluda ma mannaggia oh i cattivoni ehm aliagni aliagni no faccio e come era ugatomem grande ehm aliagni umatomem ugatoem ugatoem e non mi esplodere vicino però allora era ugatotem udam notem vabbè là vicino ugat udam notem wow che è ectolume uh grande cerchio delle prime membranze e adesso possiamo accedere a quella stanza senza barare che poi non era un baro era un bug non un baro eh che io non volevo farlo ah piallaluda non è che tipo è un bug il fatto tipo che non si veda niente a terra pensavo fosse un bug invece no è proprio il coso che è tutto nero e quindi si confonde ah ok oh che bel posticino però chi è quello? obichenu wuhu allora un altro cerchio delle rimembranze c'è un cerchio delle rimembranze oh forse dobbiamo avere un dobbiamo parlare con sto tito no ok dobbiamo parlare con nessuno ti allero luda ectolume così mi ricarico anche un po' la vita in questi cosi oh non ti avvicinare però crepate wow lava lava come lava ah 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 battute che è sta cosa prima che un oggetto esista la sua essenza deve essere richiamata dal caos l'iniziato è capace di evocare questa essenza ma senza l'energia non si ha la materia ok ok allora che sono quelle rune carine là ti all'uda che accade uh però mi serve l'essenza o forse basta stare qua per un po' di tempo no mi serve l'essenza ok oh ma tua nonna ah ok ti all ah no aspetta cosa mi sa che mi serve per salire su se la faccio da lontano poi se ne sale e arrivederci ti all'uda ok qui sempre si generano ste cose però senza la materia nada de nada hoppla ti all'uda si infatti mi porta su oh no ti all'uda sali 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 scappa no dai eh vaffan brogio siete dei grandissimi figli di buona donna tu e specialmente tu specialmente noi specialmente ti all'uda che siamo spagnoli ti all'uda la mia mano è rossa ti all'uda eh ma tu sei un grandissimo ti all'uda ti all'uda ah alla faccia tu ah obichenu 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 a ectolume che sta caricando qualcosa eh no lo devo prendere meglio no lo devo abbassare mi sa non mi fare del male sono carino e puffoso non noti uff meno male l'ha notato e come faccio oh ciao oh non mi dice niente se il resto fermo ah ok buono a sapersi ehm ectolume ok non mi dice niente ah lo carica vedete lo carica ah ecco oh e lì ha creato qualcosa oh mi vogliono male no sono carino sono carino ok lì ha creato qualcosa che cosa andiamo a vedere aia mi son fatto male non è una buona cosa dai lasciami stare che è un carino ti ricordi ah questi tizi tendono facilmente a dimenticare che sia carino tiallo luda tiallo luda ah devo rifarlo adesso perchè sono un idiota aspetta mo mi uccido rifaccio tu ok io sta roba l'ho rifatta e mo hobby kenu che ci devo fare adesso perchè se rifaccio tiallo luda scompare ma te ne vai te ne vai per piacere vai cammina ah ho detto cammina cammina eh che ci devo fare hobby kenu no hobby kenu oh si e che ci devo fanno lo mette qua no tiallo luda oh il mio diario è stato aggiornato oh 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 che ci sta nel mio diario che è stato aggiornato ah non posso fare progressi in questa caverna finchè non ottengo altri poteri per controllare gli oggetti e me lo volete dire prima sto da tre ore ascemo unire qua dentro porca miseria ascemo unire a scervellarmi cacchio state ore a capire come cacchio arrivare là sopra come far cadere qualche ah ma almeno te lo dicono eh poi ci stavo pensando pure ma non è che devo andare a fare qualche altra cosa però ti dico no dai se mi ci fanno entrare significa che posso farci qualcosa perché altrimenti ci sarebbe qualcosa che non impedisce eh qua ci crepo devo scendere un attimo giù a ricaricarmi il sederino oh ma questo è un altro posto ancora uh ho trovato un altro posto oh finalmente oh qualcosa da fare dannazione che è sta roba oh finalmente allora ti ha lo luda oh che cosa carina ti ha lo luda ti ha lo luda oh che cosa carina cosa deliziosa eeeh ho bicheno eeeh ho ectolume ok qui non può variare la roba aspetta stavo attivando qualcosa oh genius ok ho attivato qualcosa vabbè potevo farlo anche da qua ah posso anche riattivarla no però se l'ho attivata un motivo ci sarà no un secondo che sono sono andato qua si è attivato qualche altra cosa vediamo hmm questo arancione questo arancione devo riuscire ad attivare no ok che succede se attivo quella anche da là da per tutto si riesce ad attivare quella cosa quindi non penso di aver fatto chissà che cosa ti ha lo luda eeeh ectolume ok devo riuscire a far arrivare un raggio arancione là ok devo aggiustare questa forse hobbikenu e vabbè yugatatom yugatotem yugatotem no ok fa niente uh e che caccio ti aveva visto lume ti ha cioè hobbikenu hobbikenu oh eeeh ectolume ectolume eh già sto scervellando da tre ore oh allora tu hobbikenu eeeh mi sa che sti cosi qua hobbikenu li devo utilizzare per quello si perché ne ho trovato anche un altro ha 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 ok ectolume oh yeah bird genius colpisce ancora what as per ok chiuditi what no perché wow ok quindi mi sa che devo usare quell'altra per bloccare questo raggio ok vieni qua hobbikenu infatti mi chiedevo eeeh sta roba allora che senso ha hobbikenu hobbikenu oh mannaggia ah mi sa che ce ne servo un due per farlo e poi quella scusa come fare come fare come fare che se metto questo qua poi ok ok allora lume ti ti allaluda allora eeeh oh mi è venuto in mente un'idea non è che magari se io mi metto davanti alla luce la luce non passa vediamo hobbikenu eh no ectolume eh si vai ragione ectolume ectolume vediamo uso genius la luce mi sbatte addosso ma non passa ok abbiamo risolto l'enigma oh 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 quindi vieni qua hobbikenu hobbikenu oh yeah ok vediamo se adesso ce la faccio e corri più veloce del vent ah ok si è bloccata uh oh bene il genio colpisce ancora eeeh yeah sono adesso che si deve fa che si deve fare uh un cerchio delle rimembranze non c'è una cosa che più amo in questo gioco del cerchio delle rimembranze oh oh che luogo in questo ti allelu da oh cos'è sto posto segreto eh eh ho già scoperto il segreto del posto forse ti allelu oh che strana creatura ti allelu da ti allelu da no ti allelu da eh ah lume ti all lume ti all ok oh che carina che sei statua carina allora questo potrebbe essere un teletrasporto perchè poi un'altra cosa che è stata aggiunta che aggiunta mmm che ho dimenticato di dire di dirvi è che sono stati aggiunti anche dei teletrasporti per migliorare il viaggio e poi lì ho visto una gemma quindi probabilmente devo prenderla oh bicheno eh vabbè ho da totem oh bicheno oh bicheno oh bicheno oh bicheno ok non me la fa prendere devo scorgitare qualche altra cosa oh bicheno vieni qua vieni qua il mio bellissimo cubotto vieni qua eh eh la mecto ok lascia oh eccoti oh oh bicheno ah quindi non devo spostarlo bicheno no non devo spostarla ah ok ho liberato il raggio viola non so cosa serva quel cubotto lo lasciamo là perchè comunque non penso di poterlo portare su con me e quindi ritorniamo su che ho fatto ok ho aperto un qualcosa suppongo non so cosa ma l'ho aperto che è qua che è qua non posso salire si che posso salire ok lì c'è un altro buchetto da qua no perchè potevo semplicemente andare per di wow che bella collezione di maschere e che ho fatto aprendo sta cosa scusa ok qui si riscende giù però non mi serve scendere giù penso c'è del sangue qua ok uh roba da leggere penso grande allora la città bianca pausa 1 e pausa 2 amecto lascialo là fatemi tornare qua e vai che è sta roba telecinesi telecinesi mbè cosa fa di te un essere intelligente ah ok stasi il tempo pausa 1 tempo e il concetto sì yeee quindi adesso ho un nuovo incantesimo che roba carina che c'è qua opun b eh qua io muoio però adesso eh bene o male oh obichenu ehi obichenu obichenu opuno b ahahah aruagni udatotem uuuu guardando tra gli achievement ho visto che si possono uccidere tiall lume tiall ho visto che si possono uccidere queste sferette volanti aah che cosa bella davvero fantastica ok ammazzato praticamente tutto e ora mi sa che dobbiamo fare sta cosa obichenu obichenu eh dobbiamo mettere a mezz'aria sto coso e poi saltare là eeeh ectonume stop obinume mebebe eeeh uh ha funzionato perfetto quindi ora da qua alla oh grande tialloluda ah e da qua devo colpire il raggio ok tialloluda tialloluda ectolume dai oh dai ah ma potevo semplicemente saltare su sta cosa ectonume eeeh ectolume oh genius bear strikes again allora ora obichenu obichenu eh woohoo sono nella zona segreta che è sta roba fuochi fauti pausa per leggere woohoo cosa ci sarà mai qua dentro eh eeeh lo metti all lo metti all oh ma c'è una scritta a veritas ectoname che mi sa che stanno dietro di me sti cosi ah ok praticamente è lo stesso posto ok cioè praticamente entrando da là si passa ad andare di qua no problema no problema però lì potrei portare cosetti no ok c'è sempre un uno scudo qua per portare roba oh 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 una nuova estenza piena di vegetazione cos'è sta roba oh 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 runa di movimento beh vabbè uh ah ok devo leggere sto coso ma devo fare attenzione alla runa di movimento hmm e come erci l'erbolina devo fare ho bicheno no hmm ok aspettate un attimo magari ho l'umetial devo tipo caderci da sopra l'umetial ho detto l'umetial no 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 un attimo voglio vedere se sbaglio l'umetial l'umetial eh ma bre ogni volta wow cosa è stato ogni volta l'umetial poa spara in cantesimi random e che cacchio oh questa roba ok tu mi servirai in qualche modo probabilmente oh un'altra di quelle lucette l'umetial ho bicheno ah ok così oh oh ho bicheno eh com'era ho puno bi ok ho bicheno ho bicheno ho puno bi aspetto oh dai c'era riuscito a saltare nel mezzo aspetta hoppa hoppla oh dai berlin intelligentone ok come si apre questa porta adesso ah non lo so ciao belli c'è anche ok ok oh berlin intelligentone cadente ecto na me na me ecto na me ecto na me ecto uh genio di un bear adesso posso leggerla oh yeah uh teresporto wow pausa per leggere ecto nume ed ora corri più veloce della luce corri più veloce della luce corri più veloce della luce com'era 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 oh sto premendo j na me ecto a tool na me ecto a tool eh na me ecto a tool vai ah wiii oh ci sono non si apre perchè what giallo lo vuole giallo what eh lo prendo io il coso giallo oh mio dio c'era una cosa c'era una cosa del comando qua ti hallo luda ti hallo luda ma no perchè non guardo mai a terra vabbè ok questa adesso me la trasformo a gialla no ma dai non guardo mai a terra obichenu eh ecto no me vabbè funziona lo stesso ok ok aperta eee na tullo mi na tulla tal eh pappè na metta tullo na metta tullo na metta tullo na metta tullo oh yeah che è sta cosa adesso mi porta ok ogni volta che vedo queste cose grosse dico uh adesso andiamo a qualche divinità però no mai oh mio dio che figata è quella uh non c'è nessun cerchio di nembranza per me no ok ok non mi arrabbio non fa niente na tulla tal na tullo na metta tal eeeh dov'è che si vada qua eeeh muta notem notem a tullo beh vai grande a tullagni eeeh mo ste palle mi fanno cadere a tullagni no no ho detto a tullagni a tullagni a tullagni eh no a tullagni a tullagni vediamo quando mi posso teletrasportare vai wuuhuu eeeh c'è riuscito lì c'è un cerchio della rimembranza a tullagni a tullagni a tullagni c'è un cerchio quanto è profonda sta cosa d'acqua vabbè ho 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 so we are here ah apriti per piacere no eeeh ti allaluda ti allaluda a ti stai aprendo che cosa carina da parte tua ti allaluda ti allaluda grande ok abbiamo sbloccato questa porta ti allaluda e quindi da qua penso che dovremmo prendere le nostre palline portarle in quella stanza attivare il portale e andare da nuovi i nuovi posti yeah che figata sto gioco oh ciao a tullagni uh lo posso anche prendere con l'obicheno obicheno obicheno ah 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 ma stanza stanza è vuota ah devo salire ok dai non voglio uccidere a tullagni no non ti voglio uccidere na tullagul ah na tullamel e vabbè na metta tull na metta tull na metta tull dai non volevo uccirlo poverino nessuno nessuno si merita di esplodere infuocato e metta tull ok eccoci saliti da quel posto là via allora uh la bilancia come disegnato là sopra ok ok ti ha l'udà ti ha l'udà ok non succede un cacchio ti ha l'udà ti ha l'udà hm ok ti ha l'udà ah ecco devo fare tre di queste palle obicheno no obicheno ti ha l'udà ma non accade niente ah ecco ectonume ok che succede uh ecco una palla obicheno obicheno perché non la rilascia obicheno hmm o poicheno o poicheno ma o poicheno o poicheno 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 il cù o Dopo aver girato per ore e ore nel labirinto alla ricerca della seconda palla E non trovavo davvero nessun posto Sono andato a vedere dove diavolo fosse la seconda palla E c'è un altro puzzle da fare qua che non avevo minimamente visto E si dovrebbe trovare lassù Una metatool, ci posso andare qualcosa? Sì, grande E non ho visto la soluzione di questo puzzle, non so nemmeno di cosa si tratta Ma c'è altra roba da fare con questa stanza E non l'avevo minimamente vista Tialuda Tialuda E quindi andiamo a vedere un po' che c'è qua dentro Ok, Tiallume No, Lumetial Ok, vabbè, sto coso comunque me lo disattiva E... ok, siamo qua Cosa è qua? Tialuda Ecco come cacchio si apriva sta porta Mannaggia Comunque, siamo riusciti ad aprire la porta Tialuda No, ehm... Namet aluda E io faccio Namet aluambo Namet atul Namet atul Namet atul Zona segreta? No Ok, qui c'è un'altra mappa Namet atul Mi piace teletrasportarmi a random Yamet ya Yagamide Yagamide Ok Quindi qui non c'è nessuna roba segreta da leggere Perfetto Ok E quindi Namet atul Namet atul Namet atul Namet atul Namet atul Vabbè Namet atul Oh cazzo Ok Quindi Qui dovrebbe... Questo dovrebbe essere il secondo paz No, non mi dire altra roba con il... Ok L'altro l'ho fatto a caso quello con le palle C'è con l'altro della palla Spero di non dover fare la stessa cosa qua Tialuda Tialuda Che fa sta roba? No, devo fare anche questo a caso Tialuda Eh Obichenu Ah, ma si aprono tutti Obichenu 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 Namet atul Uh Mi ci posso teletrasportare qua dentro E questo coso sale e scende Cos'è? Namet atul Namet atul Vaso pure la interrompe l'acqua Obichenu Obichenu Sì Ok Namet atul Ecto namet Ecto namet Ok Ok Lascialo Ok Ok sta fermo Grande Ok Namet Eeeh Natemma gul Natemma bull Eeeh Namet atul Anac Natemma atul Ah Finalmente Ok Quindi adesso Obichenu Eh L'acqua non esce grande E si apre Oh mio dio Grande Quindi questo puzzle era abbastanza Era molto più semplice dell'altro Anche perché l'altro l'ho fatto a caso Quindi In questo qui c'era scritto Il livello 1 Il livello 2 E il livello 1 Eeeh E bloccando l'acqua qui si riesce a fare il livello E' facile Obichenu Andiamocene Obichenu Ah finalmente Andiamo Andiamo Woohoo Porte aperte Eeeh Yagamide No Natemma atul Natemma atul No Natemma Alum Ok Yeeeh Grande Ehehe Sono Riuscito A venire di qua Adesso Cosa succederà Quale altro puzzle Dovremmo Wow Che figata Che bella runa di presenza Che c'è qua Ok Uh che figata Forse incontreremo Un'altra di quelle divinità Che è tutta sta roba figa Wow Che bello grande Che è sto posto Qua che c'è qualcosa Yagamide Lo sai qua sopra Boh Uh che bei cristalli Qui c'è un'impunità però Utanutem No Anche di là Oh Oh Finalmente Natemma pull Natemma pull Oh Naggia Quanto l'odio sto teletrasporto È una figata Ma non funziona mai Yagamide Ho detto Yagamide Yagamide Eh Nag A volte La mia mano Ha proprio un Uh Oh Ok Sì ok Mi sa che avremo un'altra Parlantina Con qualche dio Forse di nuovo Veritas No Signor scheletro parlante Penso Se Che parlerà Parlerai Uh posso girarmi Wow Wow Ok Uh Veritas Ok Non ho voglia di censurare Quindi Guardiamo in alto Ok Che bello Abbiamo fatto Molta strada Yeeeh Un premio Uh Novincantesimo Munyo Namet Munyo Namet E che ho fatto? Scudo Uh E che mi serve Lo scudo Ok Paso per leggere Ok Bene Che comunque Devo censurare Maron Devo censurare Le cose Perché non vorrei Che youtube Dice Eh Cosa stai caricando Di Sporcacciosa E mi chiude Tutto quanto Quindi Allora Wow Ok 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 Quello Il caos Si destò E nacquero pianeti E popoli Ok 3 Mimissari Per creare Creato Veritas E gli altri 2 Yeah Un'epoca Di meraviglie Oh Ma vorrei un ricordo Lontano No Persino i fiori Più belli Appassiscono Che brutta cosa No Ah ok Devo distruggere Il portale Dello zenith Ok Dovrò essere Eh Vabbè Che cacchio è Wow Cos'è Oddio Una roba volante Ah Ma mi spara Piagami Deve Che spari Te Mi spara Lo scudo Minuto Munio Namet Munio Namet Ha Scudo Farò tutto Come te lo rilancio Atul Ecto Atul Ecto Eh ma ci metterò 10 anni Namet Atul Aspetta 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 Com'era Munio Namet Munio Namet Munio Namet Ok lanciami tutto Baby Ok lanciami tutto baby Ecto Ecto No Non ametto No Munio Namet Munio Namet Vediamo se riuscirò mai a beccarlo sto coso 1 2 Ecto No Devo dire qualcosa Ah tu l'Ecto Ah tu l'Ecto Non amè Munio Namet Ah Munio Namet Ne ho cazzo Ehi Ecto lume Numio Namet Arbe Ecto Ecto Annagg Atul Ecto No Dai Ecto lume Ecto lume Ecto lume Numio Numio Namet Atul Ecto Ah Udam Notem Grande Mazzato L'Ecto 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 Yagamide Mannaggia Quanto tempo Andiamo a ridere la sua carcassa Notem 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 Nacce Dove Namet Utul Namet Atul Uuuu Ammazzato Che Adesso devo saltare qua dentro Sì Ok Ok Cos'è questa Che ho completato il capitolo 2 Ma Roy Quanto tempo c'è voluto con quel boss Ok Da posto Che siamo in paradiso Siamo morti Punto delle rimembranze Ti prego Devo andare a riposare per 7 anni adesso Piacere Dov'è Punto delle rimembranze Ok Punto delle rimembranze Where are you I really need you now Il tuo diario è stato aggiornato Sì Aspamolo Leggiamo subito Fammi prima trovare il cerchio delle rimembranze Rimembranze Circle Ok Leggiamo il diario Pausa la lettura Ok Sto posto è futuristico figo Ma a me serve un posto dove salvare Ok Roba figa Dov'è che si salva? Hey 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 Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere tramite un like Un commento Ma non per quella cosa Un milione di like Sono più figo di tutti Oh yeah Ma semplicemente perché così capisco Se una cosa vi piace Oppure meno E grazie avervi visto questo video Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao